Da un paio d'anni sono cambiate le modalità di calcolo della tariffa della Tari, delle modalità che derivano da adeguamenti normativi che sono imposti dall'alto e che avrebbero portato in un primo momento a degli adeguamenti di qualche euro nei confronti di tutti. L'intervento a cui abbiamo lavorato da subito appena abbiamo visto questi tipi di adeguamenti è stato quello di trovare le risorse per far sì che le famiglie non si trovassero dei balzelli in un momento socio-economico difficile come quello che stiamo vivendo. E quindi abbiamo fatto due operazioni, una mirata sulle utenze non domestiche, quindi su tutte le attività che avranno uno sconto direttamente in bolletta di proporzioni come non si erano mai viste. Stiamo parlando di un'esenzione vera e propria della Tari, quindi una riduzione del 100% della Tari per impianti sportivi, per cinema, teatri, per le agenzie, agenzie di viaggio, agenzie di comunicazione. Una riduzione del 65% per tutte le attività che gravitano intorno al mondo del turismo e della ristorazione, quindi parlo di campeggi, di alberghi, di bar, pizzerie, ristoranti. Quindi, ripeto, una riduzione del 65% della Tari già in bolletta. Poi altre riduzioni del 40% e del 30% e via via. Praticamente tutte le attività che sono in regola con i pagamenti beneficeranno di una riduzione della Tari. Riduzione, ripeto, importante perché non si è mai avuta una riduzione di questo tipo, vuol dire che un ristorante che pagava 1000 euro si troverà nella propria bolletta a 350 euro anziché 1000. Quindi si tratta di un intervento, di una manovra considerevole. Poi sulle utenze domestiche invece abbiamo fatto due tipi di ragionamento. Abbiamo messo le risorse per ridurre la Tari a tutti e abbiamo concentrato in un fondo di 300.000 euro una riduzione, un bonus della Tari pari al 50%. Quindi un bonus del 50% della Tari per 3.000 famiglie pesaresi. Quindi secondo quelli che saranno dei parametri ISEE andremo a individuare 3.000 famiglie pesaresi su domanda, che faranno una domanda per avere un contributo, un bonus Tari del 50%. Sono misure di una portata enorme, come diceva lei giustamente stiamo parlando di quasi 1.800.000 euro e sono risorse che si riescono a fare grazie al bilancio sano che dipende, come dicevo, sia da scelte politiche che sono state fatte in questi anni che dalla fedeltà fiscale dei pesaresi che andiamo a premiare. Grazie a tutti.